La prima semifinale, la ragione di Matteo Greco, sembra prendere la comando, così è, per un vento e davanti a tutti. La prima semifinale, la ragione di Matteo Greco, sembra prendere la comando, così è, per un vento e davanti a tutti. La prima semifinale, la ragione di Matteo Greco, sembra prendere la comando, così è, per un vento e davanti a tutti. La prima semifinale, con 3.60, si rimette sul circuito, dietro, coperto dal terrapieno che c'è, lo vediamo ora spuntare in quinta posizione. La prima semifinale, perde anche la sesta posizione, Matteo Greco, Valentin Borden, davanti a Michael Giacomotti, Alessandro Chiari, Marine Le Giossecche e poi appunto Matteo Greco, che cerca di recuperare posizioni. Vediamoli al secondo passaggio, passa Valentin Borden, poi Michael Giacomotti, Alessandro Chiari, Marine Le Giossecche, Lorenzo Magnolla, Matteo Greco. La prima semifinale, ma non è vero che il primo passaggio, il primo passaggio è un po' di sesta posizione. Per un'altra semifinale, perché la sinifinale è un po' di sesta posizione, ma è un po' di sesta posizione, ma è un po' di sesta posizione. però Matteo Greco sta lottando per la quinta piazza o meglio addirittura per la quarta adesso va a recuperare posizioni una dietro l'altra lo vediamo affiancare Mani nel legge secca rimane dietro nella quinta posizione un metà leggero solo a voi il sesto e lo stasso Lorenzo Mognola forse arriva adesso esatto, passa adesso Lorenzo Mognola più attardato ma continuiamo a seguire le vicende di questa prima semifinale con davanti a tutti i poteri francesi poi i due italiani Chiari e Giacomotti eccoli passare poi c'è un altro francese che è seguito da Matteo Greco in quinta posizione la stessa posizione un genio e poi più attardato Lorenzo Mognola passano i primi 5 e alla finale siamo nel corso del penultimo giro anzi ora l'ultimo giro il penultimo giro che inizia sia questo un momento il penultimo giro che inizia l'ultimo giro l'ultimo giro l'ultimo giro l'ultimo giro l'ultimo giro l'ultimo giro il penultimo giro il penultimo giro e Matteo Greco passano arriva in stessa posizione procedano si girano attenzione dovrà recuperarne diverse per genere ci sono ben 8 italiani in questa seconda semifinale vediamoli al primo passaggio nell'ordine con Matteo Altoe davanti a Thomas Wrenk a Fabio Pizzi c'è un altro passo di Fabio Pizzi nei confronti di Cosa Sierce che ora è terzo la sua posizione per Vignano lo fecca per la Salazzo Adriano Fontana in segue per rientrare tra i primi 5 problemi invece è per Claudio Dossi chiude Matteo Altoe sul secondo giro Fabio Pizzi in seconda posizione poi Thomas Wrenk ma accorcia ancora lo sparano circa 3 secondi la piccatorote si gira perdere ben 3 posizioni con 694 Filippo Savazzi che era in quinta posizione e allora Matteo Altoe prima Fabio Pizzi in seconda Thomas Wrenk si gira per la quarta giro non abbiamo superato metà gara 6 giri per le finale di questa Carcross che guida sempre con il suo camotos Matteo Altoe davanti a Fabio Pizzi a Tom Arsulek a Salvatore Biganolo attenzione perché va a largo ancora Tom Arsulek recuperano posizioni chi lo seguiva Altoe Pizzi in prima e seconda vediamo se Al Vatore non so Matteo Altoe Fabio Pizzi stanno arrivando a chiudere in questo giro Salvatore Vigliarolo, Luca Bertoli, Tom Sulek sembrano andare a finale Matteo Ortoe vince questa semifinale davanti a Fabio Pizzi arriva Salvatore Vigliarolo, Luca Bertoli, Tom Sulek sono questi 5 kart da andare alla finale la regginina di partenza entrano nel giornate già in quinta fila superato Matteo Grieco ancora di un'ottima partenza vediamo l'aria passaggio nella curva al termine di questo giro 7 giri da percorrere per questa finale passa per primo Matteo Ortoe seguito da Michael Giacomonti, Alessandro Piano, Marco Pizzi, Matteo Grieco, Guaibri e l'ottava nella francese Paul Merlin di questa finale si procede con Matteo Ortoe davanti a tutti Michael Giacomonti, Alessandro Chiari, Fabio Pizzi, Matteo Grieco vediamo sempre in quinta posizione Matteo Grieco andare all'esterno nella curva passano avanti al Giove poi Chiari Giacomonti passa al Messandro Chiari in seconda posizione guardiamo Matteo Grieco che va alla giornata del bar prima della giornata centrale e ora andare verso la ultima curva e subito sul rettilineo si presenta davanti ancora Matteo Ortoe con il seguente posizione Alessandro Chiari in terza Michael Giacomonti in quarto Fabio Pizzi un po' in giuda suodificoli sesto e sesto e sesto ho avuto دي in sesto in sesto e sesto poliziano occupato con dei francesi dei sidelizia che cortina Villa Rossa puoi do Rig split signoro che si gu – gu – 6 su� segni Eccoli a affrontare la T-7 Inizia a disputarsi per questa finale Ancora Matteo Altone davanti al carico Inizia a disposizione durante questo quarto giro Ancora due da disputare Questa prima finale Nella Cancross Safford Racer Matteo Altone si ripresenta ancora davanti A chiusura di questo quinto giro Matteo Altone, Alessandro Chiari, Michael Giacomotti Mario Pizzi, Matteo Pizzi Altone, Alessandro Chiari, Giacomotti, Pizzi Ridi e fermo Molto di sole là C'è poi giù Speriamo qua Le energetiche Le energetiche Le energetiche Esatto, uno dei C'è perché Speriamo qui Siamo con un ultimo tiro, Matteo Altoi davanti a Alessandro Chiari e Michael Giacomotti, Matteo Grieco, Fabio Pizzi, Valille Giusec, Valentin Borden e Luca Mercoli. Chiude e vince Matteo Altoi, seconda posizione per Alessandro Chiari. Grazie a tutti.